Ragazzi, è stato un piacere, anche per noi, anche per noi, grazie a Tommaso Barone e a Simona Corpus, grazie a voi, grazie ai nostri compagni di viaggio in questa grande serata, veramente io mi sono divertito un sacco, io insieme ai miei soci... L'assessore, il sindaco, accanto a noi, tanti amici, tanti amici della Ghermess, salutiamo anche Maria Grazia Cotardo, Miss Carnevale Aradeino, 19, eccoli, tutti un salutone, vi salutiamo da Radeo, un saluto a tutti, a tutti gli amici, da Simona Corpus, dai caffinomani, Ciao a tutti, Gino Brotto, Pechemaia, a voi tutti, ci siamo proprio tutti, allora, buon Carnevale a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao ciao ciao